La scelta del Papa di non parlare o di parlare in un altro momento a me sembra buona, giusta, nobile, di altissimo profilo religioso e spirituale, sono d'accordo. Io mi pongo un altro problema diverso che riguarda il popolo di Dio, i cattolici, i fedeli semplici, l'opinione pubblica, anche quelli che non sono cattolici però che amano il Papa, amano la Chiesa, amano l'opera del Papa Francesco. A quelle persone occorre dare un pensiero, una riflessione organizzata, una risposta, se volete, da parte delle autorità preposte, degli uffici, di quelli autorizzati, risposta che consiste senz'altro non in polemizzare con l'Arcivesco Viganò che non ne vale la pena, consiste fondamentalmente in confutare le cose più grave che lui ha detto che non sono verità e che sono un oltraggio al primato di Pietro e alla sua dignità.